Tutto questo però non basta per portare a casa un risultato positivo. E tu cosa ne pensi della partita Luca? Non puoi concedere subito il vantaggio agli avversari, rischi di demoralizzarti e non riuscire a interpretare la partita come dovresti. Siamo ai titoli di coda. Al commento tecnico c'era Luca Marcheggiani, che ringrazio. È sempre un piacere lavorare con te Fabio. Grazie. 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 Grazie.